Il contatto senza Il contatto senza limiti. Grazie agli abbonamenti mobile flat rate di Sunrise. Ovviamente. Sunrise. Stipulate un abbonamento mobile Sunrise entro il 30 aprile e invierete SMS e MMS gratis per un anno. E inoltre riceverete il Nokia X6 con Sunrise Flat Basic Surf. Iscrivetevi oggi stesso. Sunrise.